musica 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 bella a tutti i ragazzi benvenuti in questa nuova video e stavo scappando allora quando lo comprate è nero quando lo utilizzate è rosso quando lo buttate via è bianco cos'è? la panella sbagliate no non è la panella avete 30 secondi una cosa manca? allora ha un oggetto specifico un oggetto specifico uno 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 due due si sei qualche cosa un oggetto l'ho sete o no? no dai l'hai sete? ho detto bianco quando lo hai detto rosso? eh quando lo utilizzi è rosso perchè fa fuoco no? eh dopo quando lo butti bianco allora allora una compra un aperitivo no compra due no compra due aperitivi e le bevono velocissimo poi un altro ne prende uno ma lo beve lentamente e muore perchè? perchè c'era l'alcol no perché c'era il veleno nel ghiaccio e quindi se il ghiaccio si è saldo lei è morta si ma lo sapevi già vero? si perché l'ha visto il video allora allora quando fa 1 più 3 più 4 5 6 più 7 più 8 per 9 allora 1 3 ma tu lo sai da vedere? ok Michele inizia a usare le dita vai usate le dita anche quelle dei piedi si ma si mi sperano un sacco perchè te lo dico io quanto fa? no 100 ha sentito si? no no non ho sentito 100 ma 100 bravo bravissimo ero nazionale è un sacco perchè mi speriamoci eii si ho un altro ho un altro 8 per 9 ne ho un altro 8 per 9 8.... 80? allora bene quando lo compri è giallo quando lo utilizzi quando è finito è marroncino che cosa? La banana, sbagliato, il qua qua, cos'era alla fine, i capelli bianchi, la vernice, 10, 9, 8, 1, 3, il metro, 2,5, la maglietta, quando la maglietta è gialla e dopo si sporca, 1,5, è una cosa da cucina, 1, no, adesso c'è più tempo, 0,5, ma cos'è la cucina? La pasta, quando brucia il grale, 0, no, quando si brucia la pasta, integrale, no, sbagliato, cos'è? Io ho detto un po' semplice, ok, adesso lo faccio io, era quotidiana questa, era facile, vuoi non sognare nessun indovinello. Davide, sai un altro? Sì, dai, dì, allora, qualcuno è in cui, allora è una bella giornata in casa rossi però purtroppo il marito di sua moglie di una persona è morto e ci sono dei sospettati una è la moglie che dice di trovarsi in banca e poi c'è il cuoco che diceva il cuoco che diceva che ha cucinato poi il giardiniere diceva che stava tagliando l'erba è una bellissima giornata al mare è una bellissima giornata e una signora si accorge che gli è stato rubato un anello sospettati erano uno con la canna da pesca quello con la canna da pesca perché hanno preso l'anello bravissimo ma sei un pazzo non sei mica non sei sei un pazzo sono un pazzo sentiato ci vediamo altre volte da Davide, Cristian e da Michele out da Davide, Cristian e da Davide, qui ci vediamo Grazie a tutti